Un passo dietro l'altro, tra sorrisi e fatiche, un cammino che è un viaggio interiore, quello che un gruppo di giovani della diocesi di Aless Terralba, accompagnati dal parroco della cattedrale di Aless, Don Emanuele De Idda, sta compiendo a Santiago sulle orme dell'Apostolo Giacomo. Siete da qualche giorno che fate il cammino di Santiago, ormai siete a meno di 70 chilometri dalla tomba dell'Apostolo Giacomo, perché questo cammino? Io sono Lorenzo, da Dolia Nova, un'esperienza che mi ha incuriosito, ho avuto l'occasione, non credo sia un'occasione abbastanza facile da accogliere, quindi ne ho approfittato e ho deciso di intraprendere questo cammino un po' per conoscere nuove persone, sia per fare un po' di ordine nello spirito. Io sono Francesco Ruff, vengo da Tortorì, anche io inizialmente per curiosità ho iniziato a fare questo cammino, è bellissimo camminare sulle orme di altri che hanno fatto questo tracciato e che come me hanno guardato dentro di sé, attraverso la camminata, attraverso le fatiche, quindi è una grande occasione per guardare la propria vita quasi dall'esterno, quasi da spettatori. Un viaggio profondamente spirituale, un percorso di crescita interiore e di riflessione, ogni passo rappresenta un'opportunità per esplorare la propria fede, confrontarsi con sfide personali e rafforzare la comunità. Il cammino offre paesaggi mozzafiato e un ricco patrimonio storico e culturale, rendendo ogni tappa memorabile e formativa.